Con l'isola ecologica ancora ferma al palo proliferano le mini discariche a cielo aperto ad Avellino e sono le periferie quelle maggiormente prese di mira dai furbetti dei rifiuti. Solo qualche settimana fa vi avevamo documentato divani e mobili nei pressi dell'ex isochimica. Oggi invece l'SOS Città ci porta a Contrada Scrofeta, zona Picarelli. Sul ponte dell'autostrada sono comparsi da qualche giorno bustoni colmi di immondizia e anche una lavatrice, nel bel mezzo di terreni coltivati a nocciole e villini ben curati. Monta la rabbia dei residenti, qui periodicamente ci raccontano, spunta qualche discarica che poi via via diventa sempre più estesa. Ci troviamo di tutto, vengono da fuori per scaricare indisturbati, forti del fatto che qui siamo in una zona isolata e non ci sono telecamere. L'appello è agli amministratori che accelerino con l'isola ecologica e si ritorni alla normalità con il trasferimento nell'area dell'ex Cecchini. La città, sindaco, è fatta anche di periferie dove la gente vive in case singole e paga tasse anche onerose sulla spazzatura. Ecco perché deve essere garantito il servizio di raccolta degli ingombranti. Con la soppressione dell'area a Campo Genova i tempi di attesa sono diventati troppo lunghi. E senza isole ecologiche i cittadini sono tentati da un'incivile pratica del fai-da-te, scaricando nelle strade isolate di campagna. Grazie. Grazie.